Nonostante il vento, la settima serata del premio Charlotte ha saputo regalare emozioni forti ai tanti presenti, ieri sera all'Arena del Mare di Salerno. Una serata iniziata con la consegna di tre premi assegnati dalla giuria presieduta dal giornalista Nino Petrone. Per la comunicazione il premio Charlotte è andato ad Anna Bisogno, professore associato di cinema, radio e televisione presso l'Università Mercatorum, per il cinema all'attore Francesco Di Leva, premio Charlotte, grandi protagonisti dello spettacolo assegnato invece ad Ornella Muti, che sul palco ha ricevuto anche un quadro realizzato dall'artista Domenico Villano e donatogli da Marco Giordano, presidente di Red Italia Art. Nella seconda parte della serata poi l'esibizione di Massimo Masiello, che ha proposto palcoscenico scritto e diretto da Gianni Conte, con la direzione musicale e gli arrangiamenti di Lino Pariota, le coreografie di Roberto D'Urso. In palcoscenico sono state le canzoni, le vere protagoniste, quelle eterne, sempre presenti nella memoria e nel cuore di noi tutti. Lo spettacolo, infatti, è stato un vero e proprio percorso musicale e poetico che ha abbracciato la storia d'Italia degli ultimi 60 anni. Brani che hanno fatto da colonna sonora le vicende politiche, economiche e sociali tra alti e bassi del nostro paese dagli anni 60 agli anni 90 e che sono diventati i pilastri della cultura musicale italiana. Un viaggio che ha visto Massiello accompagnato da una band composta da cinque musicisti, oltre che da sei straordinari ballerini e che ha coinvolto il pubblico che con lui ha cantato tutte le canzoni. Grazie a tutti!